Vorrei ora rivolgere un saluto affettoso al popolo brasiliano, in particolare alla città di Rio de Janeiro, che ospita gli atleti e gli appassionati di tutto il mondo in occasione delle Olimpiadi. In un mondo che ha sete di pace, tolleranza e riconciliazione, auguro che lo spirito dei giochi olimpici possa ispirare tutti, partecipanti e spettatori, a combattere la buona battaglia e terminare insieme la corsa, desiderando conseguire come premio non una medaglia, ma qualcosa di molto più prezioso, la realizzazione di una cività in cui regna la solidarietà, fondata sul riconoscimento che tutti siamo membri di un'unica famiglia umana, indipendentemente dalle differenze di cultura, colore della pelle o religione. E per i brasiliani, che con la loro gioia e caratteristica ospitalità organizzano la festa dello sport, auspico che questa sia un'opportunità per superare i momenti difficili e impegnarsi nel lavoro di squadra per la costruzione di un Paese più giusto e più sicuro, scommettendo su un futuro pieno di speranza e di gioia. Dio vi benedica a tutti.